Casciorro 1 prima Allora noi andiamo a Tavormina, ci stagliamo, poi sì, arriva il giorno della proiezione. Commessa la proiezione del film, che era aperto, per cui la gente si stava là a sfogare. La gente ha cominciato un po' a fischiare, dopo a rumorare, poi a grittare «Eh, ma che è?» E proprio il suono del film non si sentiva. Allora, io ero seduto accanto a Glauber e allora lui si è alzato di corsa, io mi sono alzato con lui di corsa, abbiamo salito sul palco, ossia perché c'era un palco, c'era la... De schermo dietro c'era il palco, siamo salito sul palco e davanti alla proiezione... E io con lui... e poi il pubblico tranquillo e vivo fino alla fine. Grazie a tutti. Grazie a tutti.